Mario Cusitore torna da Ida Platano. Le sue intenzioni svelate. Barbara De Santi, una figura conosciuta del programma Uomini e Donne, ha lanciato un avvertimento a Ida Platano. Il percorso recente di Ida nel dating show di Maria De Filippi non è stato dei migliori. Dopo aver scartato tutti i corteggiatori, compresi Mario Cusitore per via di una segnalazione e Pierpaolo, che ha abbandonato lo studio rifiutando di essere una seconda scelta, Ida si è ritrovata senza un compagno. Tuttavia, la situazione non è finita qui. Mario Cusitore è tornato a dichiarare il suo affetto per Ida Platano. Alla domanda di un follower, ti piace ancora Ida? Mario ha risposto. Beh, non passa da un momento all'altro, specialmente se è stato vero. Questi sviluppi hanno portato Barbara De Santi a intervenire con un avvertimento rivolto a Ida, menzionando anche Ernesto Russo. Barbara De Santi avverte Ida Platano. Barbara De Santi ha più volte espresso la sua opinione sul percorso di Ida, soprattutto dopo gli eventi recenti con Mario Cusitore. Durante un'intervista al settimanale Nuovo TV, Barbara ha dichiarato «Stai lontana da Mario!» Sarebbe una sprovveduta a cadere nella sua rete, lanciando così un chiaro avvertimento all'ex protagonista del Trono Over. Barbara ha difeso Mario Cusitore, definendolo un bravo ragazzo, ma ha anche sottolineato che non riesce a dire di no, avendo quindi il potenziale di conquistare molte donne. Tuttavia, dato che Ida valorizza la fedeltà, Barbara le consiglia di fare tesoro della sua esperienza e cercare altrove. Inoltre, Barbara ha parlato di Ernesto Russo, descrivendolo come un uomo che predica amore e pace, ma che nel concreto si comporta diversamente. Infine, Barbara ha rivelato di essere rimasta colpita da un altro cavaliere, Mario Verona, il quale ha interrotto la sua storia con Milena. Nonostante il suo interesse esplicito, però, Mario non ha voluto approfondire la conoscenza con Barbara. Non solo Barbara De Santi, ma anche altri volti noti di uomini e donne hanno avuto qualcosa da dire sul recente percorso di Ida Platano. Gemma Galgani, amica di lunga data di Ida, ha espresso il suo sostegno ma anche la sua preoccupazione per le scelte sentimentali dell'amica. Durante una recente puntata del programma, Gemma ha dichiarato, Ida è una donna forte, ma talvolta il cuore la porta a prendere decisioni di cui poi si pente. Spero che possa trovare la serenità che merita.